Il video mostra una chirurgia di allungamento di corona clinica eseguita per il trattamento di una frattura palatale a livello del secondo premolare superiore. Il disegno di lembo per l'allungamento di corona clinica sul versante palatale prevede l'esecuzione del cosiddetto lembo palatino assottigliato. Il disegno di lembo consiste in una serie di incisioni paramarginali festonate che iniziano dalla linea angolare del dente precedente e terminano alla linea angolare del dente successivo. Queste incisioni paramarginali si incrociano a livello interdentale determinando la formazione di una papilla chirurgica di tipo triangolare. Mesialmente il primo premolare viene effettuata sul versante palatale anche un'incisione di svincolo verticale che permetterà di ottenere una miglior apertura del lembo e quindi una miglior visibilizzazione della cresta ossea. L'entità della festonatura delle incisioni è determinata dall'entità dell'allungamento di corona clinico che è necessario e dalla forma del palato. Più il palato è ogivale, maggiore sarà la distanza dal margine gengivale per ottenere un corretto posizionamento apicale del lembo palatino.